Ciao a lei, ti voglio chiedere subito se avete in questi giorni ripensato quei 16 minuti di inizio di ripresa a Foggia che hanno compromesso tutta la gara, sono queste cose francamente che erano difficili da aspettarci dopo il vostro primo tempo, cosa è successo? Sì, da ieri abbiamo analizzato la partita per il mister, sì secondo me abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo preso un gol in attiva, poi però secondo il tempo siamo andati male e male al campo e abbiamo subito tre gol che si potevano aiutare Testa, problemi di testa, c'è un problema... Secondo me è più di concentrazione, sì, perché comunque abbiamo preso due gol da concentrare da pallinative che dobbiamo lavorare per minerare La reazione è quella da cui si riparte per preparare la gara con la cittadela, l'anno scorso avete preso altre sconfitte larghe fuori casa e dopo il secondo, terzo o quattro volta eravate sempre spenti, la differenza è stata un po' qui E poi magari uno dice, allora il Foggia ha chiuso, mancava venti minuti, è pensato aver vinto, si può stare, però insomma voi l'avate, non dico quasi riaperta ma nel finale ha avuto tre quattro occasioni che... Sì, dai, dobbiamo partire da quello, quello che abbiamo fatto di buono e sicuramente non sarà una partita facile perché come avete visto tutti, la cittadela ha partito forte, hanno cambiato tanto, però è sempre la solita squadra ben organizzata che gioca un bel calcio